Buonasera, benvenuti all'appuntamento con il TG News 24. Il Premier Conte è sbarcato a Londra dove domani parteciperà al vertice della Nato per i 70 anni della Nato. E' stata l'occasione, incontrato, intercettato dai giornalisti per chiarire alcune cose dopo la giornata di ieri, turbolenta, con le sue comunicazioni in Parlamento per quanto riguarda il MES, il cosiddetto Salva Stati. Questa mattina tutti i giornali hanno parlato di una rottura ormai insanabile tra Conte e il Movimento 5 Stelle, in particolare Luigi Di Maio. Conte ha voluto fare il punto e chiarire alcune cose. Sentiamolo. Oggi ho letto dei giornali e leggo francamente una ricostruzione che mi ha molto sorpreso. Addirittura qualcuno ha sintetizzato che io parlassi a nuora perché intendesse suocera o viceversa. E addirittura si è descritta una contrapposizione tra me e Luigi Di Maio, una carenza addirittura informativa. E' una lettura, una ricostruzione che non condivido affatto ma perché non corrisponde alla realtà. Io con Luigi Di Maio mi sento abitualmente, quotidianamente. Abbiamo fatto poi sul MES in particolare, ma lo sapete, è notizia pubblica, una riunione, un vertice di governo. Nell'arco di tre ore ci siamo confrontati sui vari aspetti. Abbiamo anche emesso un comunicato congiunto e vedrete tra l'altro che il comunicato congiunto era recepito anche nella mia esposizione perché le consigliazioni finali ieri richiamavano il passaggio di domani del ministro Gualtieri all'Eurogruppo e il mio passaggio l'11 dicembre davanti al Parlamento per raccogliere ovviamente quelle che saranno le premure, le indicazioni, gli indirizzi del Parlamento. Parliamo adesso dell'inchiesta sul crollo del ponte Morandi. I controlli sul ponte vennero esclusi da SPEA tramite prescrizioni specifiche che impedivano l'accesso ai cassoni dell'impalcato. Lo si legge nelle motivazioni del riesame che a novembre ha accolto la richiesta della Procura di interdire dalla professione 10 tra tecnici ed ex dirigenti di SPEA, ditta che si occupava della manutenzione, del monitoraggio delle infrastrutture per conto di autostrade per l'Italia. Il crollo provocò 43 vittime. La condotta contestata di totale e consapevole adesione agli scopi del gruppo si inserisce nella emersa tendenza a permeare la gestione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione da parte di ASPI tramite la controllata SPEA con condotte illecite dettate da motivi di stretta convenienza commerciale, lo scrivono i giudici del Tribunale del Riesame di Genova. Da un'inchiesta passiamo ad un'altra, quella sulla valanga, la salavina che causò il crollo dell'hotel Rigopiano. Il GIP del Tribunale di Pescara, Nicola Collantonio, ha disposto l'archiviazione di 22 indagati nell'inchiesta del disastro, sul disastro dell'hotel Rigopiano, avvenuta nel 18 gennaio del 2017, quando una valanga travolse il resort provocando la morte di 29 persone. Escono definitivamente dall'inchiesta, tra gli altri, gli ex presidenti della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, Ottaviano del Turco e Gianni Chiodi, l'ex sottosegretario della giustizia, Federica Chiavaroli e la funzionaria della protezione civile, Tiziana Caputi. L'ex senatore di Forza Italia, Marcello Dell'Utri, dopo aver scontato oltre 5 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, è libero da questa mattina di lasciare il suo appartamento di Milano 2, dove era ai domiciliari per motivi di salute. I giudici devono decidere se è socialmente pericoloso, lo faranno nell'udienza fissata per il prossimo 12 dicembre. L'uscita dallo studio del suo avvocato Dell'Utri è stato intercettato dai giornalisti. Vediamo. Mi avete chiesto come sto? Beh, ci dico almeno che cosa avrebbe voglia di fare. Vorrei andare a cinema ma non lo so, forse anche a mangiare un ristorante. In fondo poi questa libertà cos'è? È questo, andare a cinema, andare al ristorante, tutto qua. Beh, cosa le è mancato di più in questi anni? Sa che non lo so, sono assillato, dai giornali soprattutto, ma anche da tantissime persone, tantissimi amici. Proseguirà gli studi a Bologna? Beh no a Bologna, riprosseguo a casa, poi guardo a dargli esami. Quanti esami mancano? Oh, quanti ne ho fatti, che è il più facile. Quanti ne ho fatti? Sette. Ma andandoci? Andato a Bologna? No, no, sono sempre venute le commissioni di esame, sono venuti in carcere. Ah. Sì, sì, poi uno l'ho dato a Bologna, le hanno consentito durante i domiciliari di andare a Bologna. Quindi sul manga non ce lo dice? Ma chi ancora sta a parlare di manga? Vabbè, ma che la mafia fa schifo lo possiamo dire? Ma quello lo dico io. Che lo dica? Ma l'ho sempre detto. Ce lo dica, ce lo dica. Ma dobbè, fa schifo, non schifo, fa schifo, fa schifo, che cosa, che cosa, che cosa, che cosa. A un'indipicione. E ci sarà anche Donald Trump al vertice per i 70 anni della Nato, ma intanto dagli Stati Uniti arrivano notizie poco rassicuranti per il Presidente. Infatti, Trump ha sollecitato l'interferenza di un governo straniero, quello dell'Ucraina, per trarre vantaggio nella sua rielezione, abusando così del suo potere. E quanto afferma nella sua conclusione il rapporto della Commissione di Intelligence nell'indagine di impeachment contro il Presidente degli Stati Uniti. Trump avrebbe inoltre ostruito l'indagine di impeachment. Sono definite schiaccianti le prove. E adesso veniamo alle notizie dalla nostra regione. Sbatte la testa dopo una caduta con lo slittino. Muore due giorni dopo il ricovero in ospedale a perdere la vita una giovanissima cameriera di 19 anni di Pordenone. L'incidente era capitato sabato a Sauris. Vediamo il servizio. Non ce l'ha fatta la 19enne Liliana Hirniuk, giovane cameriera di origini ucraine, ma residente a Pordenone, rimasta gravemente ferita nel tardo pomeriggio di sabato a Sauris, a seguito di una caduta con lo slittino. Secondo quanto si è appreso la giovane, salita nella località turistica della Valle del Lumiei per salutare gli ex titolari dell'hotel per cui aveva lavorato in estate, aveva deciso di farsi una scivolata sulle nevi nei pressi della pista di fondo di Sauris di sopra. Ma all'improvviso, con lo slittino, ha impattato su un tratto di asfalto al termine della discesa, cadendo e sbattendo violentemente la testa. Subito soccorsa dei sanitari del 118, è stata stabilizzata e trasportata d'urgenza in ospedale a Tolmezzo e poi, visto l'aggravarsi della situazione, a Udine. La ragazza, che aveva frequentato l'Isis Zanussi di Pordenone e militava nella squadra di volley del Meduna, aveva perso conoscenza in conseguenza al trauma cranico subito. Il ricovero nel reparto di terapia intensiva purtroppo non è servito e dopo due giorni di agonia è spirata. Grande shock a Sauris, comunità nella quale la ragazza si era subito integrata nel periodo lavorativo iniziato nel luglio scorso. Ad esprimere la vicinanza alla famiglia il sindaco Hermes Petris. Ancora un caso di maltrattamenti sui bambini, maltrattamenti fisici e morali all'asilo nido. Una maestra è stata sospesa a confermare gli episodi che hanno portato alla denuncia, le immagini, i video e le testimonianze raccolte dagli agenti di polizia. Andiamo a vedere il servizio di David Zanirato. Una maestra di un asilo nido situato nell'Interland di Udine è stata inibita temporaneamente all'esercizio dell'attività professionale perché sospettata di maltrattamenti nei confronti dei piccoli alunni. Secondo gli inquirenti l'insegnante si sarebbe rivolta con tono di voce alto, brusco e aggressivo nei confronti dei minorenni, anche utilizzando espressioni denigratorie. Le indagini avrebbero rilevato anche alcuni episodi di strattonamenti, grida, pizzicotti e spintoni tali da provocare il pianto dei bambini. In due occasioni due bimbi sarebbero stati fatti cadere sui tappetoni, uno dall'altezza di un adulto, l'altro lasciato in modo brusco dopo essere stato sollevato di peso. La misura del divieto temporaneo dell'esercizio dell'attività di maestra della durata di otto mesi è stata emessa dal GIP del Tribunale di Udine e notificata l'educatrice il 30 novembre scorso dalla polizia al termine delle indagini condotte dalla squadra mobile, coordinate dalla procura. Indagini che erano state avviate ad aprile condotte anche con l'utilizzo di riprese audio-video e l'assunzione di testimonianze. Si è insediata questa mattina la commissione di inchiesta sulla morte di Giulio Reggeni. La tende un compito duro e importante. Buon lavoro al Presidente Palazzotto, all'Ufficio di Presidenza e a tutti i deputati che ne fanno parte. Lo afferma il Presidente della Camera Roberto Fico tra i deputati che la compongono. c'è anche Deborah Serracchiani, nominata Vicepresidente, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Far parte di questa commissione è un onore e una responsabilità, uno stimolo a impegnarsi ancora di più in rappresentanza del Parlamento, della famiglia e della nostra gente. La morte di Giulio, le molte ombre che ancora la avvolgono, rischiano di diventare uno dei troppi misteri d'Italia. Noi abbiamo il compito di evitare che il tempo e i possibili depistaggi nascondano per sempre il volto di esecutori e mandanti di un assassino che grida allo scandalo. Adesso andiamo a riepilogare le principali altre notizie di cronaca della giornata nelle Flash News. Arrestato dagli agenti delle volanti della questura di Udine un uomo di 50 anni per resistenza a pubblico ufficiale. Nel tardo pomeriggio di ieri aveva iniziato a molestare una giovane banconiera all'interno di un bar del centro città. Quando è arrivato il fidanzato della ragazza se l'è presa pure con lui, offendendolo, minacciandolo e tentando anche di colpirlo con calci tra lo spavento dei clienti del locale. L'udinese è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionato anche per ubriachezza molesta. Grave incidente attorno alle 11.30 lungo la grande viabilità triestina, 200 metri prima della galleria di Servola in direzione del centro città di Trieste. Due furgoni si sono scontrati, due le persone rimaste ferite, uno dei due conducenti è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Nell'impatto uno dei furgoni si è ribaltato e la strada è rimasta chiusa provvisoriamente al traffico tra gli svincoli di via Cabote e via Baiamonti per consentire l'operazione di soccorso. Un'abitazione singola è stata distrutta stanotte da un violento incendio scoppiato a Rabuiese in comune di Muggia a poca distanza dal valico di confine. Si è trattato per fortuna di un edificio disabitato, nessuno è rimasto ferito o intossicato e non ci sono stati particolari intralci per quanto riguarda la viabilità. Le operazioni di spegnimento, smassamento e messa in sicurezza dell'immobile sono terminate solo attorno alle 4. Le cause sono in corso d'accertamento, potrebbe trattarsi di un guasto di natura elettrica ma non si esclude il dolo. I carabinieri di Pordenone hanno denunciato un giovane di 23 anni di nazionalità rumena per furto aggravato. Il ragazzo si era introdotto nel negozio Sportler della città della destra tagliamento cercando di sottrarre un dispositivo antitaccheggio da un cappello. Il ragazzo è stato sorpreso dagli addetti. Poi la fuga ma all'esterno del negozio lo hanno fermato i militari dell'arma. In auto con sé aveva diversi anesi da scasso specifici per disattivare i dispositivi antitaccheggio. E' stato concesso oggi il nulla osta per la sepoltura di Francesco Mazzega il 38enne di Muzzana del Turniano condannato a 30 anni per l'omicidio della allora fidanzata Nadia Orlando. Mazzega si è tolto la vita sabato scorso nel giardino di casa dove si trovava agli arresti con la misura del braccialetto elettronico. Gesto estremo avvenuto all'indomani della conferma in secondo grado della condanna. I funerali sono stati fissati per la giornata di giovedì 5 dicembre all'ora 14.30 presso la chiesa di San Vitale a Muzzana. Torna dal 2020 in vita l'ambito assistenziale Friuli Centrale con Udine che farà da capofila nella gestione dei servizi sociali per oltre 160.000 utenti. La questione è stata affrontata oggi dalla giunta comunale insieme alla costruzione di nuovi alloggi Ater in via Mantova. Vediamo il servizio. Saranno oltre 160.000 gli utenti seguiti dall'ambito assistenziale Friuli Centrale che sarà operativo dal 2020. Una sorta di ritorno al passato per l'esattezza al periodo preuti per volere della regione che ha deciso di ripristinare un modello efficace per la gestione dei servizi sociali. 30 milioni di euro all'anno saranno a disposizione per le persone in difficoltà con Udine che farà da capofila di altri 9 comuni del circondario. A dare il via libera è stata la giunta Fontanini nella seduta odierna. I servizi sociali dal 2020 verranno gestiti in forma associata fra Udine e i comuni della cintura, 9 comuni in tutto e si ricostituisce l'ambito socioassistenziale che si chiamerà Friuli Centrale. Ci si mette assieme per gestire assieme quelli che sono i grandi bisogni della popolazione in stato di fragilità nella speranza di poter essere più efficaci nell'azione di supporto, di sostegno alle grandi esigenze e a questi grandi bisogni che purtroppo sono crescenti. Pensiamo a persone in disagio economico, pensiamo alle borse lavoro, pensiamo ai contributi per coloro che hanno parenti nelle case di riposo e anche all'abitare sociale per poter dare dei servizi più qualificati e più efficaci a disposizione delle persone. L'esecutivo ha anche approvato lo schema di convenzione con l'Ater necessario all'avvio della costruzione di nuovi alloggi a Udine. Per l'esattezza si tratterà di 25 appartamenti che saranno realizzati in via Mantua impiegando fondi regionali per l'edilizia convenzionata. E il sindaco Fontanini questa mattina ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano messaggero per commentare la situazione difficile delle due squadre di basket e di calcio, quindi l'Apo, il Wild West e l'Udinese nei rispettivi campionati delle rispettive discipline. Però il sindaco Fontanini si è lasciato andare anche a dichiarazioni che sono assolutamente false e che andiamo a leggere e vi dimostreremo perché Fontanini non dice il vero, soprattutto in particolare quando racconta che non frequenta lo stadio perché dall'Udinese non arrivano più gli inviti a partecipare alle gare interne, quindi all'assistere alle gare interne dalle tribune della Dacia Arena. Dice temo di non essere gradito, di essere poco gradito, quindi mi limiterò a fare il tifo a distanza. E allora perché Fontanini dice il falso? Ce lo spiegano Nicola Angeli e Giorgia Bortolossi. Andiamo ad estrarre, ad estrapolare un pezzo del telegiornale di oggi delle 19 nel quale abbiamo dimostrato perché Fontanini non dice il vero, ovvero dice il falso, nelle dichiarazioni li lasciate al messaggero. Vediamo. C'è da andare un po' sulla documentazione ufficiale, perché dice non mi invita, non lo sono gradito. Il 7 di agosto, abbiamo questa mail anche da poter far vedere, a firma di Franco Soldati, che è il presidente, uno preciso, meticoloso, come sapete, il sindaco come è consuetudine annuale, viene invitato per i primi appuntamenti allo stadio, contro Milan e Parma, potete leggere tranquillamente, e l'invito vale per tutto l'anno. Una volta valeva tutto l'anno anche per i giornalisti, adesso noi lo dobbiamo fare partita per partita, mentre vedi la classe dirigente, basta che lo dica, è sempre ben accetta. Quindi offiti nelle aree della Clubhouse, per tutti gli impegni casalinghi dell'udinente della stagione. Tutto quello che si può fare è la Clubhouse, sapete, centro di riferimento, insomma, mondo lavorativo, politico, stravalì. Sappiamo bene, insomma, quindi l'invito c'è, insomma, non è vero che non viene invitato, magari l'ha lasciato un po' nel cassetto, insomma, adesso non ho idea, comunque è stato ricevuto dal sindaco, protocollato, tutto come si fa in comune. Se l'hai dimenticato glielo ricordiamo noi, che c'è l'invito stagionale. Sì, è gradito, mi prendo sta responsabilità, penso che nessuno mi possa contraddire. E poi il sindaco qualche biglietto lo chiede, no? Vediamo un altro documento, che magicamente abbiamo a disposizione, chiede legittimamente, è tutto corretto, niente di illegittimo, per carità, per due persone, insomma, di sua conoscenza, chiede dei biglietti, impegno, richiesta, evasa, onorata dall'Udinese, come farà da qui fino a fine legislatura, insomma, fino a quando ricoprirà questa carica, magari, boh, si ricandida, viene eletto anche la prossima volta, non lo so, comunque è ben accetto, insomma, lui e i suoi ospiti. E dunque il falso nelle dichiarazioni di Fontanini consiste nell'aver dichiarato di non aver più ricevuto inviti dall'Udinese. L'invito c'è, è datato 7 agosto, era per le partite contro il Milan e contro il Parma, ma è steso a tutta la stagione 2019-2020. Quindi al sindaco Fontanini ribadiamo che da domani nella Coppa Italia, nella gara di Coppa Italia, ma anche successivamente il giorno 6, il giorno 7, nella partita contro il Napoli, il posto per lui c'è. Basta che faccia sapere all'Udinese di voler presenziare alla partita e sarà riservato il posto al primo cittadino. Dunque non è vero che non arrivano inviti. Fontanini, se nomina l'estadio, sarà per qualche altro motivo. Passiamo ad altro. È morto al Policlinico di Udine il professor Gianfranco D'Aronco, padre dell'autonomismo friulano, nato ad Udine il 19 ottobre del 1920. D'Aronco è stato un raffinato intellettuale, votato fin dalla gioventù alla causa dell'autonomismo friulano. Entra a far parte della società filologica friulana, dove incontra Tiziano Tessitori con lui già nel 1945. Fa parte dell'Associazione per l'Autonomia friulana e il 19 gennaio 1947 fonda, assieme ad altri intellettuali friulani come Pasolini e Chino Ermacora, il Movimento Popolare friulano per l'autonomia regionale. Ed è morto oggi anche Domenico Lenarduzzi, 83 anni, fu giurista e direttore onorario della Commissione europea e resterà il padre dell'Erasmus, figlio di un minatore friulano emigrato in Belgio a Charles Rouen nel 1943. Lenarduzzi ha 11 anni partendo da Ovoledo, luogo di nascita del padre. Anche lui si è sposto in Belgio, dove ebbe la possibilità di frequentare un collegio d'eccellenza, sviluppare una carriera come giurista, fino a diventare direttore onorario della Commissione europea e di dar vita all'Erasmus. Il progetto di studio, che a distanza di 30 anni esatti, ha visto muoversi nei vari stati dell'Unione europea milioni di studenti. E' stata presentata questa mattina la stagione sciistica del comprensor Nassfeld-Pramollo, che sarà inaugurato ufficialmente venerdì. Le piste sono già innevate, in ogni caso, con ingenti investimenti, sono state apportate migliorie anche al sistema di innevamento artificiale. Vediamo il servizio. La neve è già caduta abbondantemente e le piste sono pronte per l'inaugurazione ufficiale della stagione sciistica, prevista per venerdì 6. A Nassfeld-Pramollo tutto è pronto, con 110 km di piste e oltre 9 milioni di investimento, che renderanno ancora più sicuro e divertente sciare. In particolare è stato migliorato il sistema di innevamento artificiale e sono state allargate alcune piste. Non mancheranno le attività di animazione, che si susseguiranno fino al 13 aprile. Non a caso le prenotazioni nelle strutture ricettive sono già numerose, sia per il periodo delle imminenti feste che per i mesi successivi. Abbiamo allargato le piste, abbiamo completato al massimo l'innevamento meccanico, 9 milioni e 200 mila euro abbiamo speso. Quindi questo impianto permetterà anche di far fronte a eventuali colpi bassi del tempo? Senz'altro, perché abbiamo già sparato questi giorni che è stato un po' di freddo, abbiamo già sparato, abbiamo aiutato la neve che c'è già, abbiamo un metro e venti di neve in quota, no? A 70 a valle. Quindi siamo già bene per la partenza e però aiutati dalla neve meccanica salveremo del tutto la stagione. Lo ski pass purtroppo, secondo questi grandi investimenti che facciamo da privati, hanno dovuto aumentare un euro, però ci sono 110 clown di piste sempre perfettamente battute e preparate. E nei negozi di Espar è cominciata la vendita delle estrenne natalizie di solidarietà, acquistando un cesto di prodotto gastronomico, di prodotti gastronomici, si potrà aiutare l'Associazione Azzurra. Vediamo. È iniziata la vendita delle estrenne natalizie all'insegna della solidarietà. È iniziata la vendita delle estrenne in tutti i negozi Eurospare di InterSpar del Friuli Venezia Giulia. La strena è questa, come possiamo vederla, noi la mettiamo in vendita a un prezzo di 19 euro e 90 centesimi. Tutto il ricavato della vendita di queste estrenne andrà all'Associazione Azzurra Bullo Garofalo e quindi completamente per solidarietà e in beneficenza. Come avete scelto questa associazione? L'abbiamo scelta un po' per la serietà del loro lavoro, delle attività che fanno e un po' anche per il legame storico che ci rega con l'ospedale Bullo Garofalo. Infatti non è la prima volta che facciamo anche delle attività di questo tipo con loro. È un ospedale importante, conosciuto di Trieste ma che opera in tutto il Friuli Venezia Giulia, quindi io penso che anche per la città di Udine sia importante. Qual è la risposta che avete riscontrato nelle tante iniziative di solidarietà che avete portato avanti in questi anni? Per fortuna, e qui ci tengo anche a ringraziare i nostri clienti friulani, è sempre molto positiva. Addirittura il Friuli è una regione che anche rispetto alle altre regioni dove noi operiamo si contraddistingue proprio per la vicinanza e per l'affetto e anche per l'attenzione che portano verso iniziative di questo tipo. Quindi è una scelta vincente quella di abbinare dei prodotti che sono anche un'occasione per fare appunto un regalo natalizio a compiere un gesto di solidarietà. Sì, infatti noi un po' l'abbiamo chiamata dona due volte, perché il senso è quello di comprare una strena che può poi essere donata a qualcuno dei propri cari durante la festività, ma poi il doppio dono qual è? Che poi si donano anche delle risorse finanziarie importanti ad associazioni come l'Azzurra, Bullo e Garofalo che ne hanno bisogno per il loro lavoro quotidiano. Questa iniziativa proseguirà per tutte le feste? Questa iniziativa proseguirà fino a Natale, fino chiaramente all'esaurimento delle scorte, la mia speranza è che le scorte esauriscano abbastanza velocemente, perché vuol dire che queste strene poi sono uscite e sono entrate nelle case dei nostri clienti anche velocemente. Apriamo la pagina sportiva con un servizio di Jacopo Romeo che fa il punto della situazione in casa Udinese alla vigilia del match di Coppa Età, il quarto turno di Coppa Età, domani alla Dacia Arena arriva il Bologna, gara secca, chi vince passa il turno previsti dopo i 90 regolamentari, eventualmente i supplementari e poi ancora eventualmente i calci di rigore. Ma sentiamo Romeo. Una Coppa per rialzarsi, obiettivo, passaggio del turno e soprattutto rilancio. L'impegno di domani contro il Bologna vale tanto per l'Udinese sotto tutti i profili, caratteriale della fiducia e naturalmente del risultato. C'è bisogno di una vittoria convincente dal punto di vista dell'atteggiamento e della prestazione, motivo per il quale la società da ieri ha anticipato il ritiro di una squadra, chiamata ora a dare un segnale, forte ed inequivocabile, già a partire da domani. Contro il Bologna, energie fisiche e mentali nuove dovrebbero arrivare dalla cosiddetta second unit, in una formazione che vedrà diverse novità rispetto alle ultime uscite di campionato. Non un turnover, visto nome e valore degli interpreti, ma una rotazione fisiologica e chissà, magari anche propedeutica, visto la sfida contro il Napoli. Carte rimescolate, dunque per Gotti, un po' in tutti i reparti, forse anche in porta, con il possibile impiego di Nicolas. In difesa dovremmo rivedere Opoku e De Maillot, mentre cerchi ai primi minuti stagionali anche Francisco si arralta. Sui esterni è impraticato di titolarità Idete Ravest, mentre sulla sinistra si potrebbe rivedere Samir, permettendo così a Struder di tirare il fiato. In mediana scalpitano secco Fofanai e Danton in barack, vogiosi di mettersi in evidenza e determinati a cogliere la possibile chance da titolari, per completare il reparto davanti alla difesa Wallace. In avanti tornerà a titolare capitano Kevin Lasagna in cerca di gol pesanti per sé e per la squadra, mentre dopo oltre un anno di distanza potrebbe essere ancora l'ora di Lucas Theodorczyk dal primo minuto in gara ufficiale. Dall'altra parte occhio ad un Bologna in piena fiducia dopo lo scalpo del Napoli, ma che esattamente come i bianconeri sfrutterà quest'occasione per dare spazio ad elementi sin qui meno utilizzati, come ad esempio Mattia Destro in avanti, pur non snobbando naturalmente l'impegno, lusso che l'Udinese non può e non deve permettersi, per dimostrare davvero di che pasta è fatta, non sbagliare la prestazione e regalarsi il turno successivo contro la Juventus. La Old Wild West Udine è in crisi, il capitano Cortese paga per tutti. Vediamo il servizio di Jacopo Romeo sulla interruzione del rapporto, così come comunicato dall'ufficio stampa dell'Apu Udine, tra la Old Wild West e Cortese, quindi interruzione del rapporto con il capitano, dopo che in questo inizio di stagione il rendimento è stato altalenante da parte del capitano, quindi a livello individuale, dall'ex ormai capitano, ma anche da parte dell'intera squadra. Vediamo il servizio. Alla fine il conto lo paga per tutti Cortese. Come un fulmine a Celserino è arrivata la separazione e condivisa tra le parti tra l'Apu Udine e il suo a questo punto ex capitano Riccardo Cortese. Old Wild West comunica che a partire dalla data odierna l'atleta Cortese non è più a disposizione di coach Ramagli. A seguito di un'attente profonda analisi, protrattasi con tutto lo staff tecnico nella giornata di ieri, la società bianconera è raggiunta a questa decisione condivisa e dolorosa. Considerato il momento di grande difficoltà della squadra, la scelta è stata quella di dare un segnale forte a tutto il gruppo in modo da ricalibrare le gerarchie e richiamare tutti alle proprie responsabilità nella ferma convinzione che ci siano tempo e potenzialità per sistemare la situazione. Un comunicato criptico al tempo stesso insolito, sedolato infatti il presidente Pedone infuriato dopo il capo interno di domenica contro Piacenza aveva preannunciato serie valutazioni tecniche prontamente arrivate. Dall'altro risulta un po' particolare il passaggio sulle gerarchie da ricalibrare, quasi come se Cortese fosse diventato un elemento destabilizzante. Un segnale fortissimo a tutti gli altri membri del gruppo che vedono cadere la testa del capitano a fungere da elettroshock. L'esperienza di Cortese a Udine era stata condizionata dai numerosi infortuni, prima alla spalla, poi al gomito ed infine al ginocchio, ed il suo recupero ancora adesso non era del tutto ultimato, condizionando in parte il suo rendimento al di sotto delle aspettative. Al momento del taglio l'ex fortitudo stava facendo registrare appena 8.9 punti di media, con il 46% da 3 e il 43 da 2 punti, cifre non alla sua altezza. Adesso serve una reazione sul parquet nel prossimo appuntamento a Sansevero da parte del gruppo, ma prima ancora bisogna raddrizzare la barca e riemergere da un caos totale che rischia di condizionare ulteriormente il rendimento di una squadra che mai ha brillato per personalità e che adesso ha un disperato bisogno di risultati per allontanare le cattive acque di classifica e pensare che in estate le ambizioni iniziali erano opposte. Trasmetteremo ovviamente in diretta e in esclusiva la gara di Sansevero che sarà la prima dopo questo momento, se vogliamo, di rottura, di shock per l'abbandono del capitano, un abbandono condiviso naturalmente con la Apple Wild West che ho già comunicato, l'interruzione del rapporto. Ma adesso andiamo a leggere i titoli dei giornali che sono giunti in anteprima, in redazione cominciamo con il giornale che parla della bugia di Conte, Scandalo sulla cattedra, una parcella trovata dalle Iene lo smentisce, ha lavorato con Alpa, MES, Forza Italia, perché non fa bene all'Italia. E poi andiamo a vedere lì a destra, a fianco della foto di Margaret Thatcher, migranti, non c'entra nulla con la Thatcher, ma per individuare il punto in cui stiamo andando a leggere, migranti, stoppa e rimpatri, sì al reddito ai terroristi. E poi invece per quanto riguarda la Thatcher, ritratta in questa bella foto in prima pagina sul giornale, quando la dama di ferro lucidava le sue perle. Andiamo avanti e parliamo adesso di Salvini, il titolo sul libero, Salvini votiamo ed amen, non se ne può più di questo pollaio, PD stanco, grillini disperati, Renziani esausti, Premier smentito in tv sulle sue consulenze, Matteo, mi sembra che la maggioranza abbia mollato Giuseppe, gli italiani sono esausti, i sondaggi, i partiti di governo perdono, le sardine portano consensi alla Lega. Abbiamo parlato delle sardine ieri nel nostro speciale del Tg, abbiamo fatto un'analisi su questo fenomeno, proprio con Vittorio Feltri in collegamento con noi da Milano ed è Vittorio Feltri che firma oggi l'editoriale, mistero brutto, abbiamo capito che il MES è una fregatura, il MES è il cosiddetto salva stati e Tremonti ne parla, c'è una foto di Tremonti in prima pagina, l'ultimo anello di una catena di errori ed orrori, il salva stati è un cappio. La verità, ecco la parcella che inchioda Conte, viene riprodotta a fianco del titolo dal quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, Giuseppi ha detto una bugia, il Premier ha sempre sostenuto di non avere un sodalizio professionale con l'avvocato che lo ha promosso all'esame per la cattedra universitaria, però il documento scovato dalle Iene sembra smentirlo, ci spieghi. Il sistema Renzi funziona alla grande anche nella fondazione EIU, qua del sistema Renzi, quello che viene contestato per quanto riguarda la fondazione Open, c'è una presenza di Renzi ad una convention, un incontro con Renzi, secondo quello che pubblicavano i giornali in questi giorni può arrivare a valere fino a 100 mila euro. Andiamo a centropagina sulla verità, i giudici vietato respingere i migranti a Roma, sentenza che farà danni, gli stranieri devono pure essere risarciti per il mancato sbarco. Andiamo avanti con il foglio, il titolo al centro in colore rosso, denunciare il blef di Di Maio. E poi sotto la testata i 90 giorni di governo, 190 giorni di, no, i 90 giorni è corretto, di governo, dimostrano che per salvare l'Italia non basta arginare il salvinismo, ma occorre infilare il grillismo nei cestini della storia. Le altre prime pagine le leggeremo domani insieme, per chi vorrà essere con noi, a partire dalle 7 in diretta, la rassegna stampa, alcun appuntamento di informazione della nostra emittente. Prima di chiudere vi saluto e do la parola a Guido Gomirato con la rubrica Cadde Oggi. Arrivederci, a domani. Il 3 dicembre 2011 è un sabato, l'Udinese è di scena a Milano, l'avversario è l'Inter, non è più l'Inter di Mourinho, ma è pur sempre una squadra estremamente temibile, quindi forte, in grado di vincere la partita. Ma quella sera l'Udinese si trasforma, è protagonista di una gara accorta, chiude tutti gli spazi agli attaccanti nerozzurri, in particolare al temuto Milito. Primo tempo 0-0, primo tempo comunque equilibrato, l'Udinese dà segnali di poter vincere dei tour alla partita. Così succederà, perché al minuto 28 della ripresa, dopo una ripartenza rapidissima, palla a terra e tutta di prima, ecco che Isla su assist finale di Floro Flores, batte nettamente con un diagonale secco il portiere dell'Inter, Giulio Cesar. Nel finale succede di tutto, l'Udinese usufruisce di un calcio di rigore per fallo di Zanetti, pensate, Zanetti poi per doppia munizione verrà espulso, è la sua prima e unica espulsione nella sua lunga attività di calzatore in Italia. Ma non è finita, il rigore è calzato da Di Natale, respinge Giulio Cesar e al minuto 45, ecco che è l'Inter a usufruire di un rigore per fallo di Ferronetti. Si appresta ad eseguire lo specialista Pazzini, ma al momento di calciare scivola e il pallone finisce molto alto in curva. Vittoria dunque meritata per l'Udinese che in attesa del verdetto della domenica si porta solitaria in vetta con 28 punti, seguono Milan e Juventus con 27, ma il giorno successivo rossoneri e bianconeri torinesi vinceranno rispettivamente con il Genoa 2-0 e con il Cesena ancora 2-0 e si riporteranno in vetta alla classifica. L'Udinese è terza, ma finirà il lungo cammino conservando questa prestigiosa posizione che le darà diritto di partecipare per la seconda volta consecutiva ai play-off di Champions League. Grazie a tutti per seconda volta e l' scheduto a vitti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.